Un momento importante di preparazione qui alla Tier Mesi? Ma sì, diciamo, ho fatto questa settimana molto pesante per riprendere un po' il ritmo da terra dopo diversi mesi che stavo, giocavo indoor sul cemento e devo ringraziare qua il circolo che mi ha ospitato mi ha dato, mi ha aiutato a cercare le ottime condizioni per preparare bene la stagione sulla terra Assieme a Quincy sei un po' il predestinato del tennis azzurro, come si vive questo ruolo? Ma non siamo solo noi due, c'è anche Napolitano, c'è Baldi, sono tanti giovani, secondo me siamo un bel gruppo speriamo insieme di aiutarci uno con l'altro e di arrivare tutti insieme avanti e portare avanti i colori dell'Italia A livello personale cosa manca per fare il grande salto? Ma abbiamo lavorato tanto fisicamente con tutto il mio staff e poi sicuramente devo migliorare tutto però la parte più importante era sicuro quella fisica, è migliorata ma bisogna ancora lavorare tanto La tua superficie preferita? Diciamo, sono cresciuto sulla terra però sul cemento il mio gioco si addice un po' di più però cerco di adattarmi bene un po' su tutto E anche il tuo colpo ovviamente è migliore? Il colpo migliore è servizi e diritti, sono i due colpi dove si basa il mio gioco Qual è il tuo obiettivo a breve termine, cioè fine 2015 e dove invece speri di arrivare più a lungo termine? A breve termine noi siamo dati fine anno, spero di riuscire a giocare le quali degli West Open quindi essere intorno alla 250esima posizione però non ci basiamo tanto l'importante è avere il livello e vedere che ci sono sempre dei miglioramenti ogni volta e a lungo termine certo entrare nel tennis che conta Incontro di preparazione per la Serie C anche quest'anno, armesi protagonisti? Sì, quest'anno siamo un po' rivisitati perché manca Matteo Viale che l'anno scorso ci ha fatto arrivare anche grazie a lui in finale però buono, siamo di nuovo un'ottima squadra, sempre uniti con il maestro Massimiliano Conti quindi speriamo di fare anche quest'anno la nostra figura e oggi provo a fare anche la mia di figura con lui visto che è una grande occasione, almeno mi alleno un po' prima dell'incontro che avverrà tra due domeniche Quanto può essere utile un incontro di questo livello? È buono per me e anche per il circolo comunque avere finalmente qualche volta dei ragazzi forti, lui 360-370 che viene a giocare qua per noi è una buona cosa anche per i ragazzi del circolo che vengono a vedere e per me che mi riesco ad allenare a un ritmo veramente alto almeno mi abito anche a una palla più veloce e siamo contenti, spero che succeda di nuovo presto